Ciao, mi chiamo Colombo Gerson, ho 24 anni, abito in provincia di Varese. Questa è la strumentazione che utilizzo per le mie produzioni. È composta da un Macbook su cui utilizzo Ableton Live, una scheda audio della Motu, due casse KRK e una controller MIDI. L'anno scorso ho frequentato l'Istituto a Milano e mi sono diplomato in Electronic Music Production. Questa è la console che utilizzo per i miei live ed è composta da un Mixer Pire DGM700 a 4 canali, un CDG100S, un CDG200 e un CDG2000Nexus. Ogni tanto utilizzo anche un giardischi della Technic per scherciare o semplicemente in live. Ho suonato i numeri locali, sia della mia zona sia a Milano. A Milano per esempio è Tropicana. Ora sono DG Resident all'End of Live il sabato e venerdì. E ho appena smesso di essere DG Resident al Tens Café di Santo Stefano in provincia di Varese. Ho deciso di inserire due mie produzioni nei due live set. Una in quella del live set di mezz'ora e una nel live set che vi proporrò tra poco. La canzone che ho scelto per il live set di mezz'ora, sentito la Entrise, è il genere Progressive Electro House. Invece quella che vi sentirete tra poco è Electro House. Nel mio futuro mi piacerebbe essere sotto la casa discografica, fare produzioni e suonare in vari locali, discoteche e magari anche festival. Ritornando alla canzone Entrise, è prodotta con un altro ragazzo con cui abbiamo questo progetto che sta per iniziare. Ora vi voglio far sentire il mio live set. Ritornando alla canzone Ritornando alla canzone Ritornando alla canzone Ritornando alla canzone Grazie a tutti 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 Grazie a tutti